Mazzara è come rimasta sospesa per tanto tempo in attesa di una chiamata, in attesa che i lavori del dragaggio del fiume la rimettessero in carreggiata verso un futuro un po' più roseo dal punto di vista economico, come se il dragaggio del fiume potesse aprire una nuova prospettiva economica. Ma in effetti è tale perché il mare è il nostro porto canale, che è il cuore pulsante di Mazzara, il mare che dovrebbe essere la nostra apertura nei confronti del mondo, perché Mazzara deve guardare a sud, guarda a sud, è invece diventato un simbolo forte di isolamento. Nel porto di Mazzara non attracca una nave, passeggeri o merci da non so quanti anni e invece noi abbiamo bisogno di riaprire il nostro porto a traffico merci e traffico passeggeri. Ecco che allora il forte valore simbolico del dragaggio del fiume Mazzaro è un valore simbolico elevatissimo, è una sveglia che arriva a Mazzara e ci dice guarda Mazzara, rialzati perché c'è un'aria nuova, se si vuole si può realizzare tutto quello che abbiamo in cantiere. Quindi lei parla di un equilibrio già trovato con le associazioni ambientaliste, non c'è da temere, è probabile stop o possibili stop circa lo smaltimento dei rifiuti a questo punto? Noi sappiamo che cominceremo i lavori con degli esami che sono stati molto positivi, che consentiranno il deposito delle sabbie che verranno prelevate dai fondali nell'area naturale che si trova qui a Tonnarella, per intenderci quella che nel tempo è stata definita colmata B e verranno utilizzati per modellare la costa e poi probabilmente verrà utilizzata anche qualcuna delle vasche della colmata B. Nel proseguio dei lavori si faranno altri esami per come è previsto, per come è corretto fare, se verranno fuori sorprese, criticità, elementi di rilievo, questi verranno affrontati con le soluzioni adeguate. Io sono molto rincuorato perché ho sentito ai vostri microfoni queste parole del presidente Musumeci, ha detto non è un problema, non è una questione finanziaria, nei capitoli di riferimento ci sono tutti i milioni che servono, è solo una questione di volontà politica. Finalmente dopo nove anni siamo riusciti a far partire questo bellissimo lavoro che la città di Mazzara del Vallo aspettava da tanto tempo e prendo atto delle dichiarazioni fatte dal presidente Musumeci che vuole anche un discorso per un impatto turistico nella città di Mazzara del Vallo e rivalutare il nostro satiro danzante. E quindi per noi è motivo di orgoglio questo e che staremo attenti e vigiliamo affinché tutti i lavori del dragaggio vengono conclusi. Grazie. 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 Grazie.